ragazzi eccoci qua buongiorno e buona domenica si fa per dire ovviamente intanto scusatemi se non mi porto il video con il microfono setup e quant'altro ma è per una questione puramente pratica perché sapete che la domenica io gioco quindi la mattina ho sempre dei tempi abbastanza stretti e quindi avrei fatto fatica a mettere sul tutto ma ci tenevo comunque a portarvi il mio pensiero questa riflessione mattutina che in realtà è frutto un po di come dire riflessioni ed elaborazioni venuti nel corso della serata della nottata di ieri dopo aver visto la juventus tra l'altro dal vivo veramente una trasferta indigesta quella di reggio emilia per quanto permessa di fatto una partita di casa ma devo dire sempre piuttosto indigesta come sempre ragazzi come sempre se ne sentono di tutti i colori al primo passo falso della juve si scatena il finimondo e si tornano a dividere tutte le acque possibili immaginabili no si crea sempre questa spaccatura all'interno proprio della juventus perché ormai credo che sia giusto parlare di juventus come sempre giustamente si parla di allegri perché quando le cose vanno soprattutto quando le cose vanno male è giustissimo è necessario parlare dell'allenatore si parla anche di tanti errori individuali che ieri comunque in maniera evidente palese ci sono stati quindi ahimè bisogna comunque fare conto anche con questo aspetto qua ma diciamo che io credo che la critica che venga fatta ad allegri sia sbagliata ma non perché non debba essere criticato ma perché si va a criticare l'aspetto sbagliato e credo che questa sia poi la risposta a cui sono giunto anch'io stamattina cioè la risposta a cui sono giunto anch'io dopo la sconfitta contro Sassuolo dopo questo ennesimo blackout che ogni tanto accade no negli ultimi come abbiamo visto negli ultimi tre anni sono di quelle partite che improvvisamente quando comunque magari comincio a vedere uno spiraglio comincio a vedere un vero passo in avanti poi dopo magari arriva subito immediatamente la realtà non arriva questo schiaffone in piena faccia in pieno viso in pieno volto che ti riporta con i piedi per terra perché allegri viene criticato per il non gioco sicuramente l'anno scorso era un tema di cui esco sicuramente c'era bisogno di parlare ma non ieri ragazzi non ieri perché ieri i primi 45 minuti la juventus li ha fatti bene anzi i primi 40 minuti comunque fino al gol di di berardi li ha fatti bene e infatti non sono d'accordo con la legge quando dice che l'approccio mentale alla partita è stato sbagliato perché secondo me l'approccio alla partita è stato corretto la juve è partita forte la juve per tutto il tempo comunque è andata ad attaccare in avanti abbiamo secondo me difeso molto bene l'ho detto e lo ribadisco anche adesso comunque l'ho detto nel post partita e lo ribadisco ora la juventus sta difendendo bene in avanti lo sta facendo bene questo pressing abbia recuperato tanti palloni tanti palloni grazie a questa azione difensiva in avanti il problema è che dopo abbiamo una gestione a palla che è pietosa che è pietosa tante volte il primo pallone non appena recuperi la palla che è il più importante perché devi andare a consolidare devi andare a consolidare il tuo possesso di palla lo perdi il primo gol di cesni che è un errore madornale di cesni però nasce da due azioni di pressing svolte bene dove la juventus recupera il pallone nel primo caso emiretti che è ripartenza sbaglia il pallone nel secondo caso pochi secondi dopo e locatelli sempre in partenza che invece che portare il pallone fa un'apertura in orizzontale che te lo insegnano anche nella scuola calcio dei pulcini il sassuolo recupera il pallone e poi da quell'azione lì si sviluppa il tiro di l'oriente da cui nasce il gol di cesni per cui la parte diciamo di pressing funziona bene funziona bene è il dopo che ancora facciamo fatica facciamo fatica a farlo ma i primi 40 minuti della juventus sono stati buoni perché ci sono state diverse occasioni la juventus ha avuto diverse occasioni tante delle quali capitate nei piedi di un Vlaovic che ragazzi deve trovare il suo equilibrio necessariamente Vlaovic secondo me è un grande giocatore un grandissimo prospetto ma lui deve fare i conti con delle partite in cui le cose non vanno e lui questo continua a non farlo attenzione faccio questa digressione ma dopo arrivo al punto su cui bisogna criticare veramente il Liga ma forse lo avete già capito Vlaovic dicevo si deve rendere conto che ci sono certe partite certe domeniche dove non ti arriva neanche un pallone dove non ti arriva neanche un pallone pulito e non è stato il caso di ieri perché comunque Chiesa l'ha messo in porta per due o tre volte ha avuto una grande occasione nel secondo tempo che ha sprecato lui dopo pochi minuti di gara l'arbitro non gli ha fischiato un fallo che per carità si poteva anche fischiare ma non è un gol ingiusto annullato annullato ingiustamente all'ultimo minuto non gli ha fischiato un fallo a metà campo lui da lì ha cominciato a borbottare a mormorare a prendersela con tutti a fare la guerra con tutti sprecando energie non aiutando i compagni sbagliando ogni tipo di scelta che potesse sbagliare e lo vedevi proprio con il muso lungo lo abbiamo visto anche nel fine partita erano di quelli più incavolati ma lui deve essere incavolato con se stesso ci sono certi partiti in cui Vlauvi ci sembra che abbia il ciclo allora invece che essere una bambina frignona che piange mi dico ma comincia a picchiare più forte anche i tuoi avversari picchiare ovviamente calcisticamente parlando comincia ad alzare il gomito e a fare sentire un po' di fisicità che ce l'hai poi non è sempre detto che tu faccia gol o che tu abbia l'occasione dopo 5 minuti come magari è successo contro Lazio cioè non sono sempre così le domeniche allora Vlauvić non può giocarmi bene soltanto quando le cose vanno secondo i binari prestabiliti Vlauvić deve rendersi conto rendersi conto che ci sono certe partite e certe domeniche dove tu comunque ti devi mettere a servizio della squadra e in questo deve prendere spunto esempio da un Federico Chiesa che ha avuto comunque le sue stesse difficoltà se vogliamo ma che per 95 minuti ha rincorso l'uomo da solo e infatti poi viene premiato perché ha l'occasione per fare gol e quando ma soprattutto dato che ieri l'occasione l'ha avuta anche Vlauvić soprattutto nel momento in cui Chiesa ha l'occasione per fare gol è talmente tanto dentro la partita che lui non la sbaglia invece Vlauvić ieri dopo 4 minuti per quel fischio per quel fallo non fischiato dall'arbitro è uscito dalla partita e infatti nelle 3-4 occasioni che ha avuto perché c'è stato un cross da destra di Chiesa che l'ha lisciata c'è stato un pallone sempre di Chiesa messo perfettamente sul secondo palo dove Vlauvić non è stato riattivo e ha saltato un foglio di giornale c'è stato credo il cross di Kostic dove Vlauvić in modo goffo si è abbassato e di testa la tirata alta c'è stata l'occasione nel secondo tempo su assist di Rabiot dove l'ha ciccata e l'ha buttata fuori sono 4 occasioni 4 occasioni che Vlauvić sbaglia non perché è scarso ma perché era uscito dalla partita al quarto minuto torno su Allegri Allegri viene criticato per il non gioco non quest'anno non quest'anno non quest'anno Allegri viene criticato per le parole del post partita perché dice la Juventus si tira fuori cioè dice la Juventus non è in lotta per il campionato è in lotta per il quarto posto ragazzi ma il fatto che voi vi andate proprio di incruciare in questa tematica qua ma io dico ma non l'avete non si sa come funziona il calcio cioè secondo voi l'allenatore va ai microfoni e parla al tifoso parla al giornalista per far contento il tifoso per far contento il giornalista no ragazzi Allegri soprattutto quello che dice innanzitutto il 90% di interviste sono interviste di facciata mettetevelo in testa e tante altre volte sono dei segnali che Allegri cerca di mandare in primis alla squadra e poi a tutto l'ambiente si può dire tutto di Allegri ragazzi ma non che giochi per non vincere il fatto che lui dica e sottolinei continuamente che la Juventus deve lottare per il quarto posto non è che lo fa perché lui ambisca al quarto posto perché lui veramente pensa che arrivare tra le prime quattro sia un grande risultato per la Juventus fa schifo anche a lui ma lo dice perché vuole un ambiente che stia e che torni che stia e che torni dopo tanti anni in cui ti sei abituato ad essere sempre davanti a tirare la carretta perché eri sempre primo con le altre che inseguivano a stare con i piedi per terra e Allegri insiste su questo punto perché ha bisogno che la squadra e tutto l'ambiente stia con i piedi per terra perché poi al primo passo falso come ieri si cade e ci si fa male per cui non sorprendetevi discutiamo di qualsiasi altra cosa ma non di queste parole qua ragazzi perché veramente cioè è una discussione inutile ma mi sorprende che poi qualcuno come dire ci vada anche a credere e dica oh mio Dio Allegri tira fuori la Juventus dal campionato e dice che arrivare tra le prime quattro è un grande risultato ragazzi lo fa per questo motivo qua che vi ho appena spiegato ma non c'è secondo me nemmeno bisogno di spiegarlo il motivo per cui Allegri deve essere criticato e qui arrivo al cuore del video che è il come dire tutto l'output dell'elaborazione di tutte queste riflessioni è che Allegri in tre anni non è riuscito a dare alla Juventus una consapevolezza di sé che le permetta di gestire e di controllare le partite punto cioè riassumendo la Juventus dopo tre anni dopo due anni e mezzo di Allegri bis è ancora una squadra fragile e ve l'ho detto nel primo punto la Juventus per 40 minuti gioca al calcio a 6-7 buone valide occasioni da gol nel corso del primo tempo che non sono poche sviluppa bene perché sulla destra abbiamo sviluppato bene erano messi bene in campo anche Chiese e Vlaovic che si sono scambiati il pallone parla avanti parla indietro ci sono state delle velocità di questo però non si parla mai di questo però non si parla mai perché si vuole sempre vedere quello che si vuole vedere ma la Juventus è una squadra fragile perché al secondo gol di Berardi la partita è finita per noi è finita e infatti nel secondo tempo non sei più sceso in campo tu non sei nemmeno sceso in campo la partita per te era già finita questo cosa denota una fragilità mentale una fragilità mentale che è responsabilità dell'allenatore l'errore di Gatti che deriva da un ulteriore errore di Cesni perché che pallone è che idea è che scelta è quella di fare un passaggio in orizzontale che attraversa tutta l'area di rigore con la porta con la porta scoperta sono scelte e sono sintomi di una situazione di una Juve che ha paura cioè l'autogol di Gatti è la fotografia di una squadra terrorizzata terrorizzata con un Gatti che quasi nemmeno era troppo pressato avrebbe potuto fare qualsiasi cosa prima si liberava del pallone meglio allora la passo indietro ma perché la Juventus gioca sempre lì indietro ieri ne abbiamo discusso non dico litigato ma abbiamo discusso in modo acceso anche con Luca Toselli ho visto che era parlato anche lui sul suo canale durante la partita per i centrocampisti e lui diceva perché i centrocampisti della Juve le due mezzanelle vanno sempre così in alto verso gli attaccanti non stanno mai vicine alle a Locatelli per cercare di fare un palleggio per cercare di instaurare un possesso palla che possa essere credibile e lui diceva perché quelli del Sassoli invece lo fanno che sulla carta sono un terzo dei giocatori della Juve e lui diceva perché queste cose non vengono preparate io invece dico no sconti allegri contento di vedere un centrocampo che non fa due passaggi di fila è un tema di personalità perché andare a prendere il pallone quando indossi la maglia della Juventus è completamente diverso di quando tu lo fai indossando la maglia del Sassuolo completamente diverso e la Juventus ha ancora una fragilità ragazzi che lo si vede cioè è proprio palpabile al gol di Berardi non c'era quella sensazione che diceva bene abbiamo altri 45 minuti un quarto d'ora Allegri fa la sua sfuriata a fine primo tempo i giocatori staccano la spina rientrano e la andiamo a ribaltare no ragazzi questa sensazione non la abbiamo più ed è questo il vero problema allora andiamo a criticare Allegri per le cose giuste per la cosa giusta cioè che la Juventus ha ancora una fragilità mentale impressionante che alla prima difficoltà si disunisce perché nemmeno lei crede al fatto che facendo poche cose fatte bene si possa poi andare a vincere la partita questo è questa è la vera colpa di Massimilio Allegri poi possiamo parlare di tante altre cose quando il portiere in una giornata così ragazzi è difficile andare a vincere le partite perché su 4 gol 3 ce li fa Cesni ma non è questo il punto cioè è tutto il resto la Juventus per la sua storia per il suo blasonio per quello che dovrebbe essere la Juventus se scesi in una partita fa 7 errori la Juve deve avere la forza di farne altri 8 il problema è che questa sensazione qua non c'è più e il vero problema è questo la vera critica che aveva fatta Allegri è questa qua che in 2 anni e mezzo di lavoro non è riuscito a dare a fornire questa consapevolezza e questa sicurezza e questa anche fiducia dei propri mezzi ai giocatori non c'è riuscito perché non c'è riuscito questa è un'altra domanda e magari ne andremo poi a parlare in un altro video ma è per chiudere il cerchio rispetto anche al titolo del post partita di ieri dove vi dicevo non confondiamo le cose perché guardiamo le partite che sono state fatte a Reggio Emilia da un anno all'altro ci sono due squadre diametralmente opposte ragazzi e Allegri se vogliamo proprio parlare delle parole di Allegri del post partita io sono meno d'accordo non tanto quando dice la Juve deve lottare per il quarto posto io mi trovo meno d'accordo quando Allegri dice la Juventus ha sbagliato l'approccio mentale no la Juve ha avuto un ottimo approccio mentale un ottimo approccio mentale il problema è che poi al quarantesimo quando Cesni fa la papera tu sei bravo perché la vai a riprendere con rabbia ottima reazione ottima reazione ne subisci un altro perché fai un altro ruolo tecnico a metà campo la partita è finita non hai più le energie non hai più la sicurezza e la convinzione di poter andare a prendere a riprenderti questa partita ma nel corso di una stagione ragazzi le partite non vanno sempre nei binari prestabiliti non vanno sempre nel modo in cui l'hai definito tu nel modo in cui l'hai preparato tu e allora finché questa non è una squadra che saprà imparerà a mantenere l'equilibrio nel corso di una partita così come nel corso di una stagione è una squadra che non potrà mai tornare a vincere ed è questo il punto su cui battere questa roba qua l'Inter di Nzadi è la stessa di un anno fa quando faceva la sua dodicesima sconfitta in campionato contro il Monza che era tanto così da essere esonerato e oggi invece sembra una macchina perfetta per quale motivo perché magari arrivando in finale di Champions l'Inter ha acquisito una consapevolezza che adesso non la ferma più nessuno e lo vedi dalla leggerezza con cui giocano è una roba qua ragazzi la Juventus la Juventus dei 9 Scudetti andava col pilota automatico che giocasse bene che giocasse male che andasse forte che andasse due all'ora vinceva perché aveva una consapevolezza una sicurezza mentale che spazzava via qualsiasi tipo di avversario e tu la partita la vinci veramente nel tunnel prima ancora di entrare in campo è questo il vero punto e vi invito a rifletterci perché si può parlare del resto poi dopo diventa noioso fare sempre i soliti discorsi sempre i soliti discorsi la realtà ragazzi è che finché giochiamo con il terrore finché questa squadra non ritrova quella convinzione lì allora sarà veramente difficile anche solo poter pensare di vincere qualcosa fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi buona domenica